È un evento abbastanza unico per la nostra zona, perché il retrogusto rappresenta quello che c'è dietro al gusto, ma dietro al gusto ovviamente le sfumature del prodotto cioccolato, ma anche la storia del prodotto cioccolato. Quindi questa sera, oltre alla fantasia dello chef Francesco, ci sarà anche la cultura del mondo del cacao, coadiuvata appunto dalla cucina di Francesco, che intervalla tra un piatto e l'altro. Quindi è una cosa molto interessante, nuova, culturale, che fa scoprire agli ospiti sicuramente un prodotto che non tutti conoscono fino a fondo, perché il cioccolato lo conosciamo tutti, ma non tutti veramente sappiamo che cos'è il cioccolato, le tradizioni e le leggende che ci sono alle spalle di questo fantastico prodotto. Sono cioccolati di altissima qualità, perché sono tutti cioccolati artigianali, non hanno nessuna cosa chimica all'interno. Partiamo con la Toscana, abbiamo la Sicilia, quindi Modica, un cioccolato sicuramente molto particolare, perché questa azienda lavora tra l'altro molto bene, fa una lavorazione leggermente diversa dal classico Modica, non rappresentando nessuna azienda, io scelgo i cioccolati e questi sono quelli che ho scelto appunto per questa serata. Abbiamo fatto il primo antipasto freddo, che è un cannolo ripieno di branzino, con una salsa di cioccolato bianca e dei capperi sopra, poi abbiamo delle cappessante profumate al rum con una salsa di cioccolato, sempre al tartufo però, poi abbiamo un risotto al tartufo con scamorza affumicata e cioccolato, e infine una coda di rospo sempre in salsa di cioccolato con dei topinambur al tartufo. Alla fine ci sarà la degustazione di cioccolati. Gli abbinamenti sembrano strani, ma invece sono molto azzeccati, sia col cioccolato bianco col branzino, sia con le cappessante, che sono dolci, che con la salsa al cioccolato si compensano col tartufo, che rimane sempre un retro gusto di tartufo, che è bello, cioè alla fine del piatto. Sembra quasi sempre di mangiare un dolce, però invece sono piatti salati. Guardiamo il cioccolato, se è bello, se ha dei buchi, se ha delle crepe, se ha degli affioramenti del burro di cacao. Poi dobbiamo sentire se il cioccolato canta. Oltre che parlare del cioccolato, come ho detto, ci sono tanti incroci storici che anche sono educativi per i bambini, perché noi facciamo degustazione, partiamo dall'asilo fino arrivando alle medie e addirittura anche per le università. Ma l'azienda è un'offerta molto elastica, perché andiamo anche a proporre a privati, a ristoranti, ad eventi privati anche. Quindi è una cosa molto ampia ed elastica, perché viene fatta su misura per il cliente, a seconda del tema della serata. Quindi se il cliente ha una necessità particolare, cerchiamo di unire il cioccolato, il mondo, con la richiesta del richiedente. Una cosa unica che sto proponendo a un pubblico nuovo per la Polonia, ma sicuramente non usare neanche per l'Italia, perché non ci fermiamo solamente al gusto, ma andiamo appunto sul discorso storico. Un manto vano in Polonia, sicuramente non è da tutti andare a parlare di cioccolato, specialmente in polacco, conoscendo la lingua.